SOS TCS da via Sandro Pertini a Caltanissetta, c'è qualcosa che non va? Sì, dal mese di maggio che io avevo segnalato da alcuni vigili urbani, questo problema in questa strada, in quanto si è aperta questa voragine che crea pericolo, in particolar modo per i conducenti di moto, ciclomotori, eccetera. Gli automobilisti sono costretti a spostarsi contro mano, tant'è che qualche volta si è evitato l'incidente, in particolar modo perché si procede molto lentamente sapendo il problema. Non si può aspettare che si faccia male qualcuno per poi risolvere i problemi a Caltanissetta perché questa non è una prima buca che si vede. Naturalmente noi siamo nella città delle rotatorie ma nessuno si interessa, anche passando i vigili, osservando, perché non è che non si può notare un pericolo del genere. Ora io sono stato costretto ad intervenire tramite TCS, ribadisco, pur avendolo segnalato a diversi vigili urbani, presumo che abbiano comunicato qualcosa all'ufficio tecnico, ma posto oggi, dal mese di maggio, nessuno ha mai apposto un cartello di pericolo generico. Spero che naturalmente qualcuno dell'ufficio tecnico che vedrà questo filmato e sentirà quello che io ho detto, provvedano immediatamente a ripristinare i luoghi per cercare di procedere in sicurezza ed evitare eventuali danni alle persone. Questo è quanto rappresentato. Mi auguro che veramente arrivi alla coscienza di qualcuno perché anche i loro figli, presumo che abbiano ciclomotori, macchine e potrebbe succedere a chiunque di noi una cosa del genere. Grazie veramente a TCS che si sono interessati per vedere di poter risolvere questo problema in via Sandro Pertini.